L'uomo che gode di un'avventura estranea l'esperienza comune della sua razza e la comunica agli altri non deve sorprendersi se viene preso per bugiardo o per pazzo, come Malcolm Hyde, impiegato d'albergo in vacanza, scoprì a tempo debito. Ma godere non è la parola giusta per esprimere le sue emozioni. La parola che avrebbe scelto lui sarebbe stata probabilmente sopravvivere. La prima volta che posò lo sguardo sul lago Madison lo colpì la sua immota, lucente bellezza adegiata nel cuore delle vaste foreste canadesi, poi il suo assoluto isolamento e infine, ma questo un bel po' di tempo dopo, la combinazione di bellezza, solitudine e atmosfera arcana dovuta al fatto che era stato lo scenario della sua avventura. «Abbonda di pesci grandi», aveva detto Morton dello Sporting Club di Montreal. «Passate le vostre vacanze lassù, lungo la strada per Mattawa, a una quindicina di miglia ad ovest dello Stony Creek. Sarete completamente solo, fatta eccezione per un vecchio indiano che ha una capanna. Accampatevi sulla riva orientale se volete il mio suggerimento». Poi aveva parlato per una mezz'ora di quello sport meraviglioso, ma per il resto non era stato molto comunicativo e Hyde aveva notato che non gradiva le domande. Né personalmente c'era rimasto molto a lungo. Se era un tale paradiso, come affermava Morton, suo scopritore, nonché il più esperto pescatore con la lenza della regione, come mai c'era rimasto solo per tre giorni? «Penuria di cibo», era stata la spiegazione offerta. Ma a un altro amico aveva fatto un breve cenno alle zanzare, mentre ad un terzo, come Hyde venne a sapere in seguito, aveva portato come scusa il fatto che il suo meticcio si era sentito male, rendendo necessario l'immediato ritorno alla civiltà. A Hyde, comunque, delle spiegazioni importava poco. L'interesse gli venne solo in seguito. A piacergli era la formula rigurgita di pesci. Prese il Canadian Pacific fino a Mattawa, lasciò l'equipaggiamento a Stony Creek e si imbarcò in un viaggio di 15 miglia in canoa senza una preoccupazione al mondo. Visto che viaggiava con pochi pesi, i punti in cui affluivano altri fiumi non gli crearono problemi. L'acqua era veloce e agevole, le rapide sormontabili. Tutto andava per il verso giusto, come si usa dire. Di tanto in tanto vide dei pesci dirigersi verso acque più profonde e fu molto tentato di fermarsi, ma non cedette alla tentazione. Si addentrò nel mondo immenso delle foreste che si stendevano per centinaia di miglia, conosciute solo dai cervi, dagli orsi, dagli alci e dai lupi, ma ignote all'uomo. Una regione selvaggia, solitaria e primitiva. La giornata autunnale era calma, le acque cantavano e scintillavano, il cielo azzurro si stendeva sereno su tutto, abbagliante di luce. Verso sera superò una diga di castori, aggirò una piccola punta e posò per la prima volta gli occhi sul Medicine Lake. Sollevò la pagaia gocciolante. La canoa scese con una silenziosa scivolata nelle acque calme. Hyde lanciò un'esclamazione di gioia perché la bellezza del lago gli aveva tolto il fiato. Pur essendo soprattutto uno sportivo, non era insensibile alla bellezza. Il lago formava un semicerchio lungo forse quattro miglia, ampio tra il miglio e il mezzo miglio. Era inondato dall'oro obliquo del tramonto. Non un alito di vento increspava la superficie cristallina. Era lì da quando il dio dei Pelle Rossa lo aveva creato. Lì sarebbe rimasto finché non fosse tornato a prosciugarlo. Lecci e alberi torreggiavano schierati lungo il bordo, cedri maestosi si chinavano come per bere, sommacchi cremisi rilucevano in chiazze di fuoco e gli aceri splendevano di arancioni e di rossi che avevano dell'incredibile. L'aria era come vino in un silenzio di sogno. Era lì che gli indiani un tempo facevano stregonerie con tutto il rituale selvaggio e le cerimonie tribali dell'antichità. Ma Hyde pensava a Morton anziché agli indiani. Se quel paradiso solitario e nascosto rigurgitava sul serio di pesci grossi aveva un gran debito con Morton per l'informazione ricevuta. Era pervaso da una sensazione di pace ma sotto sotto covava l'eccitazione del cacciatore. Si guardò rapidamente in giro con occhio esperto per trovare un posto dove accamparsi prima che il sole affondasse dietro le foreste e sopraggiungesse la semioscurità. Il capanno dell'indiano in piena luce sulla sponda orientale lo trovò subito ma non gli sembrava comodo per via degli alberi troppo fitti che lo circondavano. Inoltre non desiderava trovarsi così vicino al suo abitante. Sul lato opposto invece gli si offriva una radura ideale, già all'ombra dato che l'immensa foresta verso sera lo oscurava ma come spazio aperto lo attirava. Remò velocemente fin lì per esaminarlo. Il terreno era duro e arido scoprì ed un ruscelletto correva tintinnando su un lato fino al lago. Anche quella foce sarebbe stata un buon punto per pescare. Inoltre era riparato. Alcuni bassi salici segnavano la foce. Un esperto campeggiatore prende in fretta le sue decisioni ed era un sito perfetto e alcuni ciocchi carbonizzati con tracce di antichi falò stavano a dimostrare che non era il primo a pensarla così. Hyde era contentissimo ma improvvisamente ad offuscare in parte il suo piacere ecco il disappunto. Aveva scaricato l'equipaggiamento e aveva iniziato i preparativi per piantare la tenda quando gli tornò in mente un particolare che l'eccitazione aveva fin lì relegato sullo sfondo ovvero il consiglio di Morton e non solo di lui perché il negoziante di Stony Creek l'aveva avvalorato. Quello maccione dai baffi radii e dalle spalle curve in maniche di camicia assieme alla pancetta alla farina al latte condensato e allo zucchero aveva voluto dirgli anche la sua e per concludere aveva ripetuto le parole mezze dimenticate di Morton. Montate la vostra tenda sulla riva orientale al posto vostro io lo farei aveva detto al momento del combiato. Il bottegaio ricordava anche Morton un uomo basso oscuro come un indiano e che emanava odore di boschi viaggiava con Jake il meticcio era sicuramente morto non si fermò a lungo vero aggiunse in tono meditabondo state andando al Windy Lake vero oppure al Ten Mile Water forse era stata la prima domanda che aveva fatto a diede al Medicine Lake veramente aveva detto l'uomo come se ne dubitasse per qualche ragione oscura si toccò i baffispidi veramente ripete e le ultime parole arrivarono dopo una lunga pausa il consiglio a proposito della riva migliore su cui accamparsi tutto questo gli tornò improvvisamente alla mente con una sfumatura di delusione e di noia perché quando due uomini esperti concordano la loro opinione non si può trascurare con leggerezza desiderò di aver chiesto più particolari al bottegaio si guardò intorno meditò esitò il posto che aveva scelto per accamparsi era senza dubbio sulla riva proibita quali mai potevano essere le obiezioni contro quella riva ma la luce si stava già affievolendo doveva decidere velocemente che cosa fare dopo aver guardato il bagaglio ancora imballato e la tenda montata a metà prese la sua decisione mormorando una frase che inviava sia morton che il bottegaio in luoghi molto meno piacevoli devono avere qualche ragione brontolò fra sé persone del genere di solito sanno quello che dicono immagino che farei meglio a trasferirmi sull'altra riva almeno per stanotte prima di ricaricare tutto sulla canoa lanciò un'occhiata alla riva opposta dalla capanna dell'indiano non si alzava fumo non aveva visto nessuna traccia di una canoa decise che l'indiano non c'era quindi allora con riluttanza abbandonò quell'ottima radura e pagaiò attraverso il lago un'ora e mezza dopo la sua tenda era montata la legna per il fuoco era stata raccolta e due piccole trote erano già state prese per la cena ma i pesci più grandi haid lo sapeva lo aspettavano sull'altra riva accanto alla piccola foce alla fine si addormentò sul suo letto di rami balsamici deluso ed annoiato chiedendosi come fosse possibile che una semplice frase l'avesse persuaso così facilmente malgrado il suo parere contrario dormì come un sasso il sole era già alto quando si svegliò ma il suo amore mattutino era molto diverso la luce brillante la pace l'aria inebriante tutto era così rallegrante per la sua mente da dissolvere le stupide fantasticherie della sera prima si meravigliò di essere stato tanto debole non aveva più esitazioni subito dopo colazione smontò l'accampamento attraversò con la canoa la striscia d'acqua scintillante e si sistemò rapidamente sulla riva proibita come oramai la chiamava con un ghigno di disprezzo e più vedeva quella radura più gli piaceva c'era legna in abbondanza acqua da bere uno spazio aperto intorno alla tenda e non c'erano mosche la pesca per di più era magnifica la descrizione di morton era pienamente giustificata e abbonda di pesci grandi per una volta non era un'esagerazione le ore inutili del primo pomeriggio le passò a sonnecchiare al sole o a gironzolare per il bosco oltre il campo non trovò traccia di nulla di insolito fece il bagno in un punto freddo e profondo se la godeva un mucchio in quel piccolo paradiso solitario solitario lo era di sicuro ma la cosa faceva parte del suo fascino la serenità la pace l'isolamento di quello splendido lago nella foresta lo incantavano il silenzio era divino si sentiva completamente soddisfatto dopo un infuso di tè verso sera vagabondò lungo la sponda cercando il primo accenno di un pesce emergente una lieve increspatura dell'acqua con le ombre che si allungavano creava delle buone condizioni i piccoli tonfi si susseguivano con un plop dietro l'altro mentre i grossi pesci emergevano cercando di garmire il cibo e scomparivano nelle profondità tornò indietro di corsa e dieci minuti dopo aveva preso le sue lenze e scivolava con cautela sulla canoa attraverso le acque tranquille la pesca era così buona in verità e così rapidamente le grosse trote si ammucchiavano sul fondo della canoa che nonostante si stesse facendo tardi non gli riusciva di venire via ancora una si diceva e poi me ne vado sul serio depositò quell'una in più ed era sul punto di toglierla dall'amo quando il profondo silenzio della sera venne stranamente disturbato si accorse l'improvviso che qualcuno lo stava osservando da qualche punto nelle ombre circostanti un paio di occhi a quanto pareva erano puntati su di lui così almeno interpretò la curiosa inquietudine subentrata nel suo amore allegro perché così la sentiva la sensazione lo aveva per vaso senza il minimo preavviso non era solo la grossa trota viscida gli cadde dalle mani rimase immobile a sedere e si guardò attorno nulla si muoveva l'increspatura sul lago era svanita non c'era un filo di vento la foresta era tutta una massa compatta ad ombra porporina il cielo giallo che scoloriva in fretta gettava riflessi che turbavano l'occhio e rendevano incerte le distanze ma non c'era rumore o movimento non sorgeva nessuna figura da nessuna parte eppure sapeva che qualcuno lo stava osservando e un'ondata di terrore del tutto irragionevole lo assalì la punta della canoa era rivolta verso riva in un attimo istintivamente la spinse a largo e remò in acque più profonde l'osservatore anche questo sentì quasi istintivamente era vicinissimo a lui su quella riva ma dove e chi era per caso l'indiano lì in acque più profonde ad una ventina di metri dalla sponda si fermò e aguzzò lo sguardo eludito per captare qualche eventuale indizio ora che quella prima strana sensazione era in parte passata sentì un po di vergogna ma la certezza restò per quanto assurdo sentiva con sicurezza che qualcuno lo stava osservando con uno sguardo intenso e concentrato glielo diceva ogni fibra del suo essere e benché non gli riuscisse di scorgere nessuna figura nessuna sagoma nuova sulla sponda avrebbe perfino potuto giurare su quale folto di salici la persona nascosta era rannicchiata e lo fissava la sua attenzione sembrava attirata su di un folto d'alberi particolare l'acqua sgocciolava lentamente dalla pagaia che era appoggiata di traverso sulla canoa non si udiva nessun altro suono la tela della sua tenda brillava fioca cominciarono a vedersi le stelle hyde aspettava ma non accadde niente poi improvvisa come era venuta la sensazione passò ed egli seppe che la persona che l'aveva osservato intenzionalmente era andata via fu come se una corrente si fosse spenta il mondo tornò normale il paesaggio si svuotò come se qualcuno avesse lasciato una stanza e quella sgradevole sensazione lo lasciò nel medesimo tempo così che virò immediatamente la canoa verso la riva la tirò in secco e con la pagaia in mano si avvicinò ad esaminare il gruppo di salici che aveva identificato come il nascondiglio dell'osservatore non c'era nessuno naturalmente né c'era traccia che vi fosse stato di recente un essere umano non c'erano né foglie né rami smossi e neppure un ramoscello era stato spostato il suo occhio acuto ed esperto non trovò nessuna orma sul terreno ma ciò nonostante era certo che poco tempo prima qualcuno si fosse accovacciato proprio fra quelle foglie per osservarlo ne restò assolutamente convinto l'osservatore sia che fosse l'indiano un cacciatore un boscaiolo sia che fosse un meticcio vagabondo si era ritirato una ricerca sarebbe stata inutile e inoltre stava scendendo la sera ritornò al suo piccolo accampamento più turbato di quanto volesse ammettere si cucinò la cena appese il carniere ad una fune in modo che nessun animale predatore lo prendesse durante la notte e si preparò a stare comodo fino all'ora di andare a letto inconsciamente preparò un fuoco più grande del solito e si sorprese a scrutare le profonde ombre che si stendevano oltre il falò e a tendere le orecchie per afferrare ogni minimo rumore restò in allarme una condizione che gli era del tutto nuova un uomo che si trovi in condizioni simili e in un posto simile non avverte il disagio finché il senso di solitudine non lo colpisce come qualcosa di troppo reale e vivido la solitudine apporta fascino piacere e una bella sensazione di calma fino a che o a meno che non arrivi troppo vicina dovrebbe restare solo un ingrediente tra gli altri non dovrebbe essere notato troppo direttamente e con troppa concretezza una volta che si sia avvicinata troppo però può facilmente attraversare lo stretto confine tra il benessere ed il malessere e il buio è il momento peggiore per questa transizione può facilmente seguire una strana paura la paura che la solitudine possa essere improvvisamente turbata e il solitario essere umano si sente esposto ad ogni attacco per haid ormai quella sensazione si era già compiuta quel senso troppo profondo di solitudine si era trasformato d'improvviso nella terribile condizione di non sopportare più di essere completamente solo era un momento difficile e l'impiegato d'albergo comprese con esattezza la sua posizione non gli piaceva affatto sedeva con le spalle i ceppi accesi una figura stagliata sullo sfondo della luce del falò mentre tutti intorno a lui il buio della foresta si argeva come un muro impenetrabile non vedeva nulla al di là del piccolo alone del suo fuoco da campo il silenzio che lo circondava era il silenzio della morte non frusciava nessuna foglia non sciabordava nessun'onda lui stesso era immobile come un ceppo di legno poi ad un tratto divenne cosciente che la persona che l'aveva osservato era tornata e che veniva fissato dallo stesso sguardo intenso e concentrato non c'era stato nessun avvertimento non aveva sentito scalpicii furtivi né scoppiettii di ramoscelli secchi eppure il possessore di quegli occhi ferini era molto vicino probabilmente a poco più di tre metri di distanza quella sensazione di vicinanza era schiacciante un brivido li corse lungo la spina dorsale questa volta per giunta era certo che l'uomo fosse accovacciato appena oltre la luce del falò e quella era una distanza accuratamente calcolata avvertiva che l'osservatore era proprio davanti a lui qualche minuto rimase a sedere senza muovere neanche un muscolo ma con tutti i muscoli pronti ed in guardia gli occhi puntati inutilmente per penetrare l'oscurità con il solo risultato di abbagliarsi la vista con il riflesso della luce poi mentre cambiava lentamente cautamente posizione per ottenere un altro angolo di visuale il cuore ebbe due violente pulsazioni contro la cassa toracica ed i capelli parvero drizzarsi sul cranio alla sensazione di gelo che gli salì orribilmente lungo la spina dorsale nell'oscurità davanti a sé scorse due piccoli cerchi verdastri che erano certamente un paio di occhi ma non occhi di indiano cacciatore o qualsiasi altro essere umano erano due occhi di animale quelli che dalla notte lo fissavano così intensamente e tale certezza ebbe un effetto immediato e naturale su di lui di fronte alla minaccia di quegli occhi infatti le paure di milioni di cacciatori da tanto tempo morti sin dall'alba dei tempi si risvegliarono in lui sebbene fosse un impiegato d'albergo l'ereditarietà si sollevò dentro di lui come un'ondata automaticamente portata dall'istinto la mano gli corse ad un'arma le dita gli caddero sulla punta di ferro della sua cetta da campo e subito tornò in sé riprese fiducia il vago timore superstizioso era sparito si trattava di un orso o di un lupo che aveva fiutato la sua pesca ed era venuto per rubarla con esseri del genere sapeva istintivamente come comportarsi pur amettendo per via di quello stesso istinto che la sua paura iniziale era stata di tutt'altra natura voglio proprio vedere che cos'è per la miseria esclamò ad alta voce e agguantando un tizzo ardente dal fuoco lo scagliò con buona precisione dritto contro gli occhi della bestia che aveva di fronte il pezzo di abete resinoso cadde in una pioggia di scintille che illuminarono l'erba secca da questo lato dell'animale divamparono per un attimo e poi tornarono rapidamente a spegnersi ma in quell'attimo di forte illuminazione egli vide con chiarezza chi fosse l'ospite importuno un grosso lupo sedeva sulle zampe posteriori fissandolo attraverso il fuoco vide le zampe e le spalle vide il pelo vide anche i grossi tronchi d'abete illuminati alle sue spalle e la macchia di salici ai due lati formava un quadro vivido nitido mostrato fin nei particolari dalla momentanea vampata con un grande stupore però il lupo non si girò e prese la fuga davanti al tizione ardente ma si ritrasse solo di qualche metro e si sedette di nuovo sulle anche fissandolo fissandolo come prima dio come lo fissava provò a spaventarlo con la voce ma senza risultato il lupo non si scostò non ci sprecò un altro buon ciocco ora che la sua paura era passata un lupo era un lupo e poteva restarsene lì seduto quanto gli pareva purché non provasse a rubargli la pesca non sentiva più l'agitazione sapeva che i lupi erano innocui d'estate e in autunno e anche quando si raggruppavano d'inverno assalivano l'uomo solo quando soffrivano di una fame disperata perciò rimase a guardare la bestia lanciò dei legnetti nella sua direzione arrivò persino a parlargli stupito solo dal fatto che non si muovesse se ti fa piacere puoi restare lì per sempre osservò a voce alta tanto al mio pesce non ci arrivi e il resto delle provviste me lo porto dentro la tenda l'animale ammicò con quei suoi accesi occhi verdi ma non accennò ad una mossa perché allora se la sua paura era scomparsa pensava a certe cose mentre si agitava fra le coperte prima di addormentarsi l'immobilità di quell'animale era strana il suo rifiuto di girarsi e scappare era ancora più strano non aveva mai saputo prima di allora che potesse esistere un animale che non temeva il fuoco perché si sedeva e lo osservava con quello sguardo intento con quei suoi occhi spaventosi come aveva fatto ad avvertire immediatamente la presenza del lupo un lupo soprattutto un lupo solitario è una creatura timida ma quello non temeva né l'uomo e neanche il fuoco ora mentre era disteso nella comoda tenda avvolto nelle coperte il lupo si era accucciato sotto le stelle accanto alle braci morenti con il vento gelido nella pelliccia la terra fredda sotto le zampe a guardarlo guardarlo fissamente e forse sarebbe restato lì fino all'alba era insolito e strano poiché non possedeva né immaginazione né ricordi non richiamò alla mente nessuna riserva di visioni ataviche banale concreto un impiegato d'albergo in vacanza era steso fra le coperte a farsi domande e a stupirsi un lupo era un lupo e niente di più eppure quel lupo l'idea lo ossessionava era diverso in una parola la parte più profonda del suo primitivo disagio restava intatta si girò e rigirò e a volte rabbrividì durante il suo sonno agitato non uscì dalla tenda a vedere ma si svegliò presto e non riposato ma con la luce del sole e il vento mattutino l'incidente della notte prima fu dimenticato e divenne quasi irreale il suo zelo di pescatore era più forte il tè e il pesce erano deliziosi la sua pipa non aveva mai avuto un gusto così buono e la gloria di quel lago solitario tra le foreste primitive gli andò alla testa era un cacciatore davanti a dio e nulla di più provò a pescare ai bordi del lago e mentre era in preda l'eccitazione per aver preso un grande pesce capì improvvisamente che il lupo era lì si fermò con la in mano come se si fosse incagliata si guardò attorno poi guardò in una direzione precisa la brillante luce del sole rendeva ogni minimo particolare chiaro e netto i massi di granito i ceppi bruciati i ciottoli lungo la riva ma senza rivelare dove era nascosto l'osservatore poi spostò lo sguardo lungo la riva tra la macchia intricata e improvvisamente scorse quella sagoma familiare e quasi attesa il lupo era disteso dietro un masso di granito cosicché erano visibili solo la testa il muso e gli occhi si fondeva con lo sfondo se non avesse saputo che era un lupo non lo avrebbe mai distinto dal paesaggio i suoi occhi splendevano alla luce del sole hide lo guardò i loro occhi si incontrarono grandio esclamò ad alta voce beh sembra proprio un essere umano da quel momento involontariamente stabilì un singolare rapporto personale con l'animale e ciò che seguì confermò quell'indesiderabile impressione perché l'animale si alzò immediatamente e scese verso la riva con passo deciso e tranquillo poi si fermò a guardarlo lo fissava negli occhi come un grande cane selvatico cosicché hide fu cosciente di una sensazione nuova e incredibile il lupo voleva un cenno di riconoscimento da parte sua bene bene esclamò ancora liberandosi di quella sensazione con il rivolgersi ad alta voce all'animale questo supera tutto quello che ho visto nella mia vita che cosa vuoi ad ogni modo lo esaminò con più attenzione non aveva mai visto un lupo così grande era una bestia tremenda un avversario difficile da combattere riflette se si fosse mai arrivati a quel punto era accucciato assolutamente tranquillo e fiducioso nella bagliante luce del sole ne osservò ogni particolare un lupo enorme peloso dai fianchi magri i suoi occhi maligni guardavano fissi nei suoi quasi come se l'animale avesse qualcosa di preciso in mente vide le sue grandi mandibole i denti e la lingua che penzolava e gocciolava saliva eppure in quell'animale c'era ben poca traccia di vatichezza o di ferocia era stupito e sorpreso oltre ogni limite desiderò che l'indiano tornasse non capiva un comportamento tanto strano in un animale i suoi occhi la loro strana espressione gli procuravano una sensazione insolita e imbarazzante si chiese se per caso gli stavano saltando i nervi la bestia stava sulla riva e lo fissava per la prima volta desiderò di aver portato con sé un fucile con uno schiaffo sonoro calò di piatto la pagaia sull'acqua con tutta la sua forza finché gli ecchi risuonarono come colpi di fucile e furono udibili da un'estremità all'altra del lago il lupo però non si mosse haid ammiccò con gli occhi e gli parlò come si parla ad un cane un animale domestico una creatura abituata alle maniere umane l'animale ammiccò in risposta alla fine aumentò la distanza dalla riva e continuò a pescare l'eccitazione di quello sport meraviglioso attrasse la sua attenzione quella superficiale almeno a volte dimenticò quasi l'animale però ogni qualvolta alzava lo sguardo lo vedeva lì ma peggio ancora quando cominciò lentamente a pagaiare verso la riva lo vide trottare lungo la spiaggia come se volesse tenergli compagnia nell'attraversare una piccola baia hide raddoppiò la velocità delle remate con la speranza di raggiungere l'altro punto prima del suo compagno indesiderato e indesiderabile immediatamente l'animale cominciò a correre con l'andatura rapida e instancabile che tranne sul ghiaccio supera nella corsa qualsiasi altra creatura a quattro zampe che corra nei boschi quando raggiunse quel punto distante il lupo lo stava aspettando alzò la pagaia dell'acqua e si fermò un momento per riflettere quell'attenzione così viva e l'imbrunire e la notte dovevano ancora arrivare non gli piaceva affatto il suo accampamento era vicino doveva avvicinarsi arriva si sentì a disagio perfino nella luce splendente del giorno quando con suo grande sollievo a circa un mezzo miglio dalla tenda vide la creatura fermarsi di colpo e accucciarsi aspettò un momento poi riprese a pagagliare il lupo non lo seguì non fece nessun tentativo di muoversi era accucciato e lo fissava dopo qualche centinaio di metri si girò a guardarlo lui era ancora immobile fermo dove lo aveva lasciato ed è la sensazione assurda ma intensa che la creatura avesse indovinato i suoi pensieri la sua ansia la sua paura e ora gli stesse mostrando quanto meglio poteva che non nutriva alcun sentimento ostile che non meditava di attaccarlo virò la canoa verso la riva e la tirò in secco ad imbrunire si cucinò la cena ma l'animale non diede alcun segno certamente era accucciato poco lontano a guardare ma non avanzava e hide ormai attento in un modo nuovo fu acutamente cosciente della strana atmosfera assunta dalla sua personalità banale e comune d'improvviso si è rese conto che le sue relazioni con il lupo già stabilite avevano fatto un netto passo avanti questo lo sorprese ma la sorpresa non fu accompagnata dall'allarme che avrebbe certamente provato 24 ore prima capiva il lupo era conscio di provare dei sentimenti amichevoli nei suoi confronti si spinse a tal punto da mettere qualche grosso pesce nel punto dove lo aveva visto la prima volta la notte precedente se viene pensò li mangerà volentieri io ne ho abbastanza ad ogni modo ormai pensava al lupo come ad una persona ma il lupo non si presentò se non quando era sul punto di ritirarsi nella tenda parecchio tempo dopo erano quasi le dieci mentre di norma si coricava al più tardi alle nove insomma inconsapevolmente era stato ad aspettarlo poi mentre stava chiudendo la cerniera fece scorrere gli occhi vicino a dove aveva posato il pesce aspettò nascondendosi in attesa di udire il rumore delle mandibole al lavoro ma tutto quanto era silenzioso dal fondo nero come la pece rilucevano soltanto gli occhi lui chiuse la cerniera non aveva affatto paura dieci minuti dopo dormiva come un sasso non doveva aver dormito molto perché al risveglio poteva vedere attraverso la tela un debole lucore rossastro segno che il fuoco non si era ancora del tutto spento si alzò e fece cautamente capolino l'aria era freddissima se ne corse al primo fiato ma vide anche il lupo che si era avvicinato e sedeva accanto alla brace morente a meno di due metri da dove lui era rannicchiato dietro la falda della tenda e stavolta a distanza così ravvicinata c'era qualcosa nell'atteggiamento di quella grossa creatura selvatica che catturò la sua attenzione con un intenso fremito di sorpresa allarmata e un'improvvisa sensazione di gelo che lo tenne soggiogato lo guardava incapace di credere ai suoi occhi l'atteggiamento del lupo gli comunicava qualcosa di familiare che sulle prime non fu in grado di spiegare la sua posa gli suggeriva un'altra cosa con la quale aveva piena dimestichezza ma cos'era lo tradivano forse i sensi dormiva ancora e stava sognando poi improvvisamente con un sussulto di agnizione misteriosa capì il suo era l'atteggiamento di un cane una volta trovata la chiave la sua mente fece un balzo prodigioso perché a dire il vero non scimmiottava affatto un cane ma qualcosa a lui più vicina nonché più familiare santo cielo era lì seduto nella posa nell'atteggiamento nell'abbandono di un qualcosa quasi umano e allora con una seconda sensazione di stupore pungente gli giunse la rivelazione il lupo sedeva accanto al falò come avrebbe fatto un uomo prima che potesse soppesare la sua straordinaria scoperta prima che potesse esaminarla nei particolari o con attenzione l'animale seduto in quel modo spaventoso parve sentire i suoi occhi fissi su di sé lentamente si girò e lo guardò in faccia e per la prima volta hide sentì una paura possente superstiziosa prorompere attraverso tutta la sua persona sembrava paralizzato da quel terrore innominabile che si dice assalga gli esseri umani posti improvvisamente di fronte ai morti e quali si trovano privi della parola e dell'azione quel momento di paralisi si verificò senz'altro se non che il suo superamento fu altrettanto singolare della sua venuta infatti quasi contemporaneamente si era reso conto di qualcosa al di là e al di sopra di quella contraffazione dell'atteggiamento e della posa umani qualcosa che correndo lungo nervi inusitati toccava la sua sensibilità e forse anche il suo cuore il mutamento era straordinario e ancor più straordinario e inaspettato il risultato restava però il fatto era cosciente di un'altra cosa che ebbe l'effetto di placare il suo terrore sul nascere era cosciente di una supplica muta semi espressa ed eppure immensamente commovente in quegli occhi selvatici vedeva un'espressione implorante struggente perfino che cambiò come per magia il suo amore dal terrore ad un'istintiva compassione la grande belva grigia simbolo di crudele ferocia sedeva accanto al suo falò morente e invocava aiuto in quell'istante l'abisso fra animale e umano parve superato la cosa ovviamente aveva dell'incredibile hide il sonno forse ancora avvinghiato al suo essere interiore con ombre e forme informi ancora attorno all'anima hide riconobbe senza neanche sapere come il fatto sconcertante si trovò ad annuire con il capo alla belva quasi in ton di approvazione e immediatamente senza battere ciglio la sottile sagoma grigia si levò come uno spettro e trotterellò via rapida ma con un passo furtivo in seno alla notte quando hide si svegliò al mattino la sua prima impressione fu di aver sognato tutto quanto l'episodio la sua natura pratica si faceva valere la fresca aria autunnale era pungente il sole luminoso non dava addito a mezze luci si sentiva frizzante nella mente e nel corpo riesaminando l'accaduto giunse alla conclusione che era assolutamente inutile fare concetture al comportamento dell'animale non sapeva dare alcuna spiegazione possibile aveva a che fare con qualcosa che esulava completamente dalla sua esperienza la paura peraltro lo aveva del tutto abbandonato restava invece quello strano senso di benevolenza la bestia aveva un suo scopo preciso nel quale era inclusa anche la sua persona la sua simpatia restava valida solo che era accompagnata da una forte curiosità se si mostrerà di nuovo disse tra sé mi avvicinerò e scoprirò cos'è che vuole e notò che i pesci lasciati la notte prima non erano stati toccati sarà stata un'ora buona dopo la colazione quando vide di nuovo la belva era sul limitare della radura e lo guardava in quel modo ormai familiare senza indugiare hide raccolse l'ascia e gli andò arditamente incontro senza mai distogliere lo sguardo c'era in lui un certo nervosismo controllato nulla lo tradiva passo dopo passo si avvicinò fino ad una distanza di una decina di metri il lupo non aveva ancora mosso un muscolo le fauci aperte lo seguiva attentamente con gli occhi lo lasciò avvicinare senza fargli capire le proprie intenzioni poi con quei dieci metri fra di loro si girò bruscamente e si allontanò a passo lento guardandosi indietro prima da una spalla e poi dall'altra proprio come avrebbe fatto un cane per vedere se era seguito fu un viaggio singolare quello che fecero insieme l'animale e l'uomo furono subito circondati dagli alberi perché lasciarono dietro di loro il lago ed entrerono nella macchia intricata che era al di là dell'acqua l'animale notò hide e prese ovviamente i sentieri che lui poteva percorrere più facilmente gli ostacoli che non significavano niente per un quadrupede esperto ma che erano difficoltosi per un uomo furono evitati dal lupo con un'intelligenza soprannaturale mentre la direzione generale fu mantenuta accuratamente ogni tanto c'erano degli alberi abbattuti da superare ma sebbene il lupo li superasse con facilità si fermava sempre ad aspettare che l'uomo vi si arrampicasse a fatica e spuntasse dall'altra parte si addentrarono sempre di più nel cuore della foresta solitaria in quel modo particolare ad hide parve che tagliassero l'arco della mezzaluna del lago e infatti dopo circa due miglia riconobbe il grande promontorio roccioso che era picco sulla riva settentrionale del lago dal suo accampamento aveva visto quel promontorio un cui lato scendeva ripido fino all'acqua aveva immaginato che fosse il posto in cui gli indiani tenevano le loro cerimonie magiche perché si argeva isolato e la sua cima non era di facile accesso e fu lì vicino ad un grande abete che era i piedi del promontorio che il lupo si fermò improvvisamente e diede per la prima volta espressione ai propri sentimenti si accucciò sulle zampe posteriori alzò il muso aprì le mascelle ed emise un guaito lungo e sommesso che era molto più simile al lamento di un cane che al feroce ululato che in genere si associa al lupo nel frattempo haid aveva perso non solo ogni paura ma anche la cautela e piuttosto stranamente quel guaito non risvegliò in lui nessuna emozione spiacevole in quello strano suono egli riconobbe lo stesso messaggio che comunicavano gli occhi una richiesta di aiuto ciò non di meno si fermò un po spaventato e mentre il lupo aspettava si guardò rapidamente attorno gli alberi erano giovani evidentemente prima quella era una piccola radura ascia e fuoco avevano fatto il loro lavoro ma ad un occhio esperto era chiaro che vi avevano lavorato degli indiani e non gli uomini bianchi una parte dei rituali magici senza dubbio avveniva in quella piccola radura pensò l'uomo mentre avanzava verso il suo paziente compagno la fine del loro strano viaggio era vicina sentiva aida non aveva fatto ancora due passi che l'animale si alzò e si mosse lentamente in direzione di alcuni cespugli bassi che formavano una macchia entrò tra i cespugli voltandosi per assicurarsi che il suo compagno lo stesse guardando i cespugli lo nascosero e un momento dopo riemerse compì due volte quella pantomima ogni volta quando riapparve si fermò a guardare l'uomo con l'espressione più implorante che un animale riesca ad assumere la sua eccitazione intanto aumentò e quell'eccitazione fu comunicata all'uomo heid prese in fretta la propria decisione afferrò più strettamente il manico della propria ascia e si tenne pronto ad usarla il primo segno di aggressività e poi si mosse lentamente verso i cespugli chiedendosi con un po di paura che cosa sarebbe accaduto se si aspettava di essere sorpreso le sue aspettative furono colmate ma fu il comportamento dell'animale a farlo trasalire gli saltellò intorno scodinzolando come un cane allegro saltellava di gioia la sua eccitazione era intensa eppure dalla bocca aperta non proveniva alcun suono con un balzo improvviso poi saltò oltre heid nel folto dei cespugli si fermò ai bordi e cominciò a grattare con forza sul terreno heid si fermò a guardare e lo stupore e l'interesse allontanarono il nervosismo perfino quando l'animale nel suo movimento violento toccò il suo corpo con il proprio heid forse aveva la sensazione di vivere in un sogno uno di quei sogni fantastici in cui può accadere qualsiasi cosa ma mai nulla è sorprendente altrimenti il modo in cui il lupo grattava e scalfiva il terreno gli sarebbe dovuto apparire un fenomeno impossibile nessun lupo e certamente nessun cane avrebbe usato le zampe nel modo in cui le usava quell'animale heid ebbe la sensazione strana e angosciante di star guardando mani e non delle zampe eppure in qualche modo la sorpresa naturale che avrebbe dovuto sentire era assente lo strano comportamento del lupo non gli sembrava del tutto innaturale nel suo cuore si sprigionò una corrente di simpatia e di pietà e fu cosciente di un grande dolore il lupo interruppe la sua attività e alzò gli occhi sull'uomo heid allora agì senza più esitare in seguito non fu assolutamente in grado di spiegare la propria condotta seppe che cosa doveva fare indovinò che cosa gli veniva chiesto che cosa l'animale si aspettava da lui fra la sua mente e il muto desiderio che dilagnava la bestia si creò una comunicazione intelligente e intellegibile egli tagliò un ramo e lo affilò perché le pietre avrebbero spuntato la lama dell'ascia quindi entrò nel volto dei cespugli per completare lo scavo cominciato dal suo compagno quadrupede e mentre lavorava sebbene non dimenticasse la vicinanza del lupo non gli prestò alcuna attenzione spesso gli voltava la schiena e si chinava sul duro scavo e lui non c'era più né disagio né senso del pericolo il lupo era accucciato accanto ai cespugli e guardava i suoi movimenti la sua attenzione concentrata la sua pazienza il suo desiderio intenso la gentilezza e la docilità di quell'animale grigio feroce e forse affamato il suo piacere e la sua soddisfazione evidente nell'aver conquistato l'essere umano ai suoi fini misteriosi tutti questi furono i colori dello strano quadro a cui Hyde pensò più tardi quando si trovò di nuovo a trattare con il greggio umano del suo albergo in quel momento era cosciente soprattutto del grande dolore e della compassione tutta quella storia era naturalmente incredibile ma questa scoperta venne più tardi quando volle raccontare la sua esperienza agli altri lo scavo continuò per una mezz'ora prima che le sue fatiche fossero ricompensate dalla scoperta di un piccolo oggetto biancastro lo sollevò e lo esaminò era l'osso di una mano umana seguirono in fretta molte altre scoperte il nascondiglio fu messo a nudo raccolse quasi tutto lo scheletro il teschio però lo trovò alla fine e non l'avrebbe trovato affatto se non fosse stato per il suo compagno attento e vigile infatti era qualche metro dal fosso appena scavato il lupo strofinò il muso sul terreno e Hyde capì che doveva scavare esattamente in quel punto per trovare il teschio fra le zampe del lupo ficcò il ramo nel duro terreno grattò la terra dall'osso e lo esaminò con attenzione era perfetto tranne per il fatto che qualche animale selvaggio lo aveva morso e le impronte dei denti erano ancora chiaramente visibili e accanto ad esso c'era la testa di ferro arrugginita di un tomahawk quest'ultimo e la piccolezza delle ossa gli confermarono l'idea che non si trattava dello scheletro di un uomo bianco ma di un indiano durante l'eccitazione della scoperta delle ossa e poi del teschio ma soprattutto durante i movimenti di intenso interesse in cui Hyde gli esaminava prestò poca attenzione al lupo era conscio che l'animale era cucciato e lo guardava senza mai spostare gli occhi penetranti dalle varie operazioni ma non fece alcun segno né si mosse sapeva che l'animale era contento e soddisfatto sapeva anche di aver addempiuto al suo desiderio l'ulteriore intuizione che ebbe derivava ma ne era certo dal muto desiderio del suo compagno e fu forse la parte più interessante di tutta la sua esperienza raccolte le ossa nella sua giacca le portò insieme al tomahawk ai piedi del grande abete nel punto in cui il lupo si era fermato la prima volta la sua gamba sfiorò il muso della creatura il lupo girò la testa a guardarlo ma non lo seguì né si mosse mentre preparava la piattaforma di ramoscelli sul letto di rami appoggiò le povere ossa logore di un indiano che era stato ucciso senza dubbio in un attacco improvviso o in un'imboscata e ai cui resti era stata negata l'ultima grazia di una giusta sepoltura tribale avvolse quindi le ossa nella corteccia e posò il tomahawk accanto al teschio accese un fuoco tutto intorno la pira e il fumo azzurrino si alzò nella luce abbagliante della mattina autunnale finché si perse in alto fra le cime degli alberi nel momento in cui aveva acceso il fuocherello si era girato a vedere che cosa stava facendo il suo compagno era accucciato a 5 6 metri di distanza hide vide che guardava intensamente la scena e che una delle sue zampe anteriori era leggermente sollevata dal terreno non fece alcun cenno l'uomo finì il lavoro e ne fu tanto assorbito che non ebbe occhi che per la cura del suo fuoco cerimoniale soltanto quando la piattaforma di ramoscelli crollò lasciando cadere gentilmente le ossa bruciate sul terreno fragrante fra le soffici cenere di legno l'uomo si girò di nuovo come se volesse mostrare al lupo che cosa aveva fatto e vedere forse un'espressione soddisfatta in quegli occhi stranamente espressivi ma il lupo era scomparso non lo vide più da nessuna parte c'era traccia della sua presenza e hide non era più osservato pescò come prima camminò nella macchia che circondava l'accampamento sedette a fumare accanto al fuoco la sera e dormì tranquillamente nella tenda piccola e comoda non fu disturbato nella lontana foresta non si sentì nemmeno un guaito nessun ramoscello schioccò sotto un passo fermo e pesante e non vide un paio di occhi il lupo che si comportava come un uomo era scomparso per sempre il giorno prima di partire hide notò che dalla capanna che si trovava dall'altra parte del lago usciva del fumo pagaiò fino all'altra riva per scambiare qualche parola con l'indiano che evidentemente era tornato il pelle rossa gli andò incontro mentre lui tirava in secco la canoa ma fu subito chiaro che parlava molto male l'inglese sulle prime emise solo dei grugniti familiari poi poco a poco hide mise in pratica il suo vocabolario limitato il risultato però fu scarso tu a campare lì chiese l'uomo indicando l'altra riva sì lupo venire sì e tu vedere lupo sì l'indiano lo fissò per un momento e il suo volto ramato e rugoso aggiunse un'espressione penetrante e curiosa tu avere paura del lupo chiese dopo un momento di pausa no replicò hide in tutta sincerità sapeva che era inutile fare domande sebbene desiderasse avidamente ottenere delle informazioni perché l'altro non gli avrebbe detto niente era già una fortuna che l'uomo avesse toccato quell'argomento e hide capì che il suo ruolo era solo di rispondere e non porre domande poi d'improvviso l'indiano divenne relativamente loquace c'era timore e reverenziale nella sua voce e nelle sue maniere lui non lupo lui grande lupo stregone lui spirito di lupo dopo di che beve il tè che l'altro gli aveva preparato serrò le labbra e non disse altro la sua sagoma era visibile sulla riva rigida ed immobile un'ora dopo quando la canoa di hide girò l'angolo del lago a tre miglia di distanza ed egli la tirò in secco per far risalire ai bagagli la prima rapida del suo viaggio di ritorno fu morton che persuaso da hide gli fornì ulteriori particolari di quella che definiva la leggenda un centinaio di anni prima la tribù che viveva nel territorio al di là del lago aveva cominciato le annuali cerimonie magiche sul grande promontorio roccioso posto sulla riva settentrionale ma non poté essere realizzata nessuna magia perché gli spiriti come dichiarò il capo stregone non avrebbero risposto visto che erano offesi seguì un'indagine e si scoprì che un giovane indiano aveva ucciso un lupo un'azione severamente proibita visto che il lupo era l'animale totem della tribù a peggiorare la situazione il nome del colpevole era lupo che corre e poiché l'offesa era imperdonabile l'uomo fu maledetto e scacciato dalla tribù va via erra solo nei boschi e se ti vedremo ti uccideremo le tue ossa saranno sparse nella foresta e il tuo spirito non entrerà nei beati territori di caccia finché un uomo di un'altra razza non le troverà e le brucerà il che significa spiego morton laconicamente e fu il suo unico commento alla storia probabilmente per sempre grazie per l'ascolto se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri puoi fare una piccola donazione su paypal o ko fee tramite il link che trovi in descrizione inoltre se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro puoi trovarli anche su spreaker spotify ed apple podcast grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto